Buonasera, sono le quattro e mezza quindi abbiamo modo di iniziare. Allora mi ripresento, io sono Monica Biglio, direttrice del Dipartimento di Economia e sono felice che sia già il terzo incontro che riusciamo a fare di questi seminari online dedicati agli impatti dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Come ho già avuto modo di dire in occasione dei precedenti incontri, per noi come Dipartimento è un'occasione da un lato di portare a conoscenza e in discussione quelle che sono l'attività, le valutazioni, il lavoro, la passione, l'impegno, la ricerca dei colleghi sui temi collegati, dall'altro l'occasione di fare comunità sia per i nostri studenti ma sia anche per una comunità più ampia. Oggi in particolare tocchiamo un tema estremamente importante che sta, come dire, che l'occasione della situazione legata all'emergenza sanitaria è in un qualche modo forse messo un po' in ombra ma che è indubbiamente uno dei temi di maggior impatto e di maggior significato anche per il futuro. Quindi effetti climatici e ambientali in questo caso di uno stop imprevisto. Prima di iniziare di presentarvi i colleghi docenti che oggi ci accompagnano in questa chiacchierata, in questa discussione, vi ricordo come al solito che per quanto riguarda le domande saranno raccolte direttamente nella chat pubblica e poi faremo un giro per cercare di rispondere ad almeno alcune di queste alla fine del primo giro di tavolo, quindi della prima serie di interventi. Quindi come in passato vi invito a riportare le vostre domande in chat. Dall'altro lato vi ricordo che i due seminari precedenti sono già disponibili nella pagina dedicata del Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, sia nella versione video che nella versione podcast che poi è stata messa a disposizione da Radio Ca' Foscari. Bene, allora io direi che innanzitutto presento gli ospiti, a cominciare da Enrica De Chan, che è professoressa di Economia Ambientale al Dipartimento di Economia di Ca' Foscari e Senior Scientist presso la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CMCC. Ha collaborato con diversi centri di ricerca in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Joint Programme all'MIT e la Boston University. È principal investigator di un progetto IRC, Starting Grant, un progetto di particolare prestigio, Energia, Energy Use for Adaption, che studia l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l'utilizzo dell'energia. Attualmente a Ca' Foscari coordina anche il Master in Science and Management of Climate Change. A seguire c'è Marinella Davidi, che è la segnataria di una borsa di ricerca Marie Curie presso Ca' Foscari. Si occupa dell'analisi di politiche nazionali e internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici. Collabora anche con il Centro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CMCC, e al momento è in distaccamento presso l'Università di Harvard, quindi è collegata da Harvard, dove sta svolgendo i primi due anni del suo progetto di ricerca legato alla Marie Curie. Carlo Giupponi è professore di Economia Applicata e Ambientale presso il Dipartimento e Dean della Venice International University. La sua attività di ricerca si concentra sulla scienza della sostenibilità e le interazioni fra sviluppo e il drive di cambiamento globale, approfondendo in particolari i metodi di valutazione e gestione integrate delle risorse naturali con particolare attenzione all'acqua. I suoi contributi metodologici originali più rilevanti sono nel campo dell'integrazione disciplinare attraverso lo sviluppo di metodi e strumenti che adottano l'analisi di sistemi dinamici e spaziale e la modellistica integrata per la valutazione e il supporto decisionale. Infine Stefano Battiston, che è un collega recentemente arrivato a Ca' Foscari, proprio dal mese di marzo, è professore di Finanza presso il Dipartimento e anche al Swiss National Science Foundation al Dipartimento of Banking and Finance dell'Università di Zurigo. È esperto di network economici e finanziari, rischio sistemico e finanza sostenibile. Ha coordinato diversi progetti europei, tra cui i progetti nell'ambito il Future Emerging Technologies e Simple Dolphins, che studiano come aumentare la stabilità finanziaria e meglio indirizzare la finanza verso investimenti sostenibili. È attivamente coinvolto anche nella Task Force on Macroeconomic Efficiency and Stability, diretta dal premio Nobel Joseph Stiglitz e finanziata dall'Institute of New Economic Thinking. In questi giorni è stato anche coinvolto una discussione di riduzione del prossimo report IPCC sui temi della finanza sostenibile. Allora, dopo la presentazione dei colleghi, inizierei con Enrica, in particolare, che ci parlerà soprattutto di energia e transizione. e che quindi mi sono permessa di sbloccare il microfono di Enrica. Ciao Enrica. Ciao Enrica. Allora, in particolare, le misure restrittive che in questo momento sono state imposte non solamente in Italia, ma in diversi, moltissimi paesi, hanno avuto ripercussioni notevoli, ovviamente, in primi sulla produzione, poi sulla mobilità e quant'altro. E diversi studi, ovviamente, hanno già immediatamente messo in evidenza come questo blocco abbia degli impatti importanti sul prodotto interno loro, quindi sull'economia. Vedendo a questo, e anche osservando cosa è successo ieri sul mercato del petrolio, visto il future che è diventato negativo, cosa che nessuno mai in finanza ha visto, vedere un prezzo diventare negativo, come sta reagendo il settore energetico a questo shock? Allora, quando parliamo di settore energetico, una prima variabile che è interessante analizzare, che ci può dare delle informazioni interessanti su come queste misure di contenimento stiano impattando sia il sistema energetico, ma anche l'economia, è la domanda di elettricità. Questo perché, anche perché, la domanda di elettricità, allora abbiamo dei dati disponibili quasi in tempo reale, nel senso che i gestori delle reti di trasmissione quasi ogni giorno pubblicano i loro dati del carico, della domanda totale, li rendono pubblici. Quindi possiamo capire appunto in tempo reale cosa sta succedendo al sistema energetico e all'economia. E quindi approfittando di questa disponibilità di dati, insieme al gruppo di ricerca del mio team, insieme a un dottorando, siamo andati ad analizzare gli andamenti della domanda di elettricità giornalieri, anzi, direttura orari. Abbiamo visto che, per esempio in Italia, durante soprattutto l'ultima fase delle misure restrittive, quindi quelle più stringenti, che hanno bloccato non solo le attività commerciali, ma anche tutte le attività industriali non essenziali, in Italia la domanda giornaliera è crollata del 30% in media. Significa che ogni giorno stiamo consumando circa il 30% in meno di elettricità. Questo rispetto a un giorno, prima delle misure restrittive, quindi gennaio o inizio febbraio. Abbiamo poi confrontato la situazione dell'Italia con altri paesi europei e abbiamo visto che la riduzione che abbiamo visto in Italia è la più importante, mentre per esempio in Francia siamo arrivati a un meno 20%, seguito poi da Spagna e Regno Unito con un meno 13% e poi in Francia con un meno 9%. C'è anche da dire che l'Italia è l'unico paese che ha messo il blocco anche le attività industriali, mentre gli altri paesi si sono limitati a bloccare le attività commerciali. Quindi questa è una prima considerazione. L'altro aspetto interessante è che abbiamo visto analizzando i consumi nelle varie fasi di misure. Vi ricordate all'inizio si sono chiuse le scuole e è stato imposto un distanziamento sociale più che altro volontario, le attività economiche continuavano a funzionare. Ecco, durante questa prima fase allora in Italia abbiamo avuto un calo abbastanza moderato, circa del 2%, quindi poca cosa, però nei paesi come Francia e Germania che hanno implementato le stesse misure ma con un rispetto di circa una settimana a 10 giorni, solo la chiusura delle scuole e il distanziamento sociale volontario hanno ridotto la domanda elettrica giornaliera di circa 6-9%, quindi un po' di più. E adesso, vabbè, queste sono analisi ovviamente in corso, preliminari, però gli impatti che abbiamo visto durante la prima fase, quella di chiusura delle scuole e distanziamento sociale volontario, forse in qualche modo possono darci un'indicazione di quello che è stata la riduzione dei consumi essenzialmente grazie soprattutto allo smart working, al fatto che molte persone non sono più andate a lavorare ma hanno lavorato da casa. Quindi è legato più alla mobilità che alla riduzione di produzione. Sì, alla mobilità, però questi sono i consumi elettrici, quindi la mobilità è il fatto che le persone non si sono spostate, sono rimaste a casa, non sono andate in ufficio essenzialmente. sono riduzioni importanti anche perché da una parte ovviamente i consumi delle attività produttive, commerciali e industriali, si sono ridotti, però allo stesso tempo il settore residenziale ha avuto un aumento perché persone a casa per consumi domestici e adesso al momento ancora non siamo in grado di distinguere i consumi settoriali perché non abbiamo questi dati, però ci sono già indicazioni ovviamente che il settore residenziale ha avuto i consumi. Quindi questo sul lato, diciamo, elettricità e poi ci sono le implicazioni che riguardano appunto il mercato del petrolio, ovviamente di fronte a un calo di domanda così importante abbiamo avuto appunto i crolli del prezzo del petrolio che abbiamo passato da 70 dollari per barile circa, che avevamo inizio anno, a 20-25 in questi giorni. Prezzi bassi che ovviamente mettono in difficoltà paesi produttori che ottengono 80, ma anche il 100% delle loro risorse dall'esportazione di queste risorse, quindi sicuramente rischio di una crisi non solo economica, ma anche sociale, essendo comunque paesi fragili, alcuni di questi fragili. Alcuni di questi, indubbiamente. È un momento storico e con questo poi concludo, è anche un momento storico perché prezzi bassi del petrolio è un'occasione per togliere alcuni di quei sussidi che noi diciamo sussidi perversi nel senso che danno degli incentivi a consumare troppo petrolio perché sono dei sussidi che riducono i prezzi al consumo del petrolio. In un contesto di prezzi bassi è l'occasione per togliere questi sussidi che assorbono anche molte risorse finanziarie, quindi si potrebbero liberare miliardi di dollari, oggi diamo circa più di 300 miliardi di dollari per sussidiare il consumo del petrolio, togliere questi sussidi per liberare risorse in questi paesi che sicuramente ci sono in difficoltà e un attimo di pensare. Questo è un aspetto non da poco e ti invito a passare all'aspetto successivo. Che cosa accadrà ai consumi energetici una volta passata la crisi anche se ovviamente l'entità e la dimensione della crisi al momento c'è incertezza su quanto possa perdurare? Sì, infatti ovviamente tutti adesso fanno c'è la tendenza a fare un confronto con la crisi del 2008-2010 però è stata una crisi piuttosto rapida nel senso che in un paio d'anni poi la domanda di elettricità per esempio è tornata a crescere il PIL è tornato a crescere la cosa interessante è che comunque per esempio la domanda di elettricità è tornata a crescere dopo la crisi del 2008-2010 ma non come prima c'è stata una forte crescita nei paesi emergenti mentre i paesi più ricchi come anche l'Europa la domanda è aumentata solo marginalmente e cosa aspettarsi per il futuro? Sicuramente nel momento in cui le attività economiche riprendono possiamo aspettarci anche che la domanda di energia e di elettricità tornerà a crescere anche se molte abitudini molti comportamenti che stiamo adottando potranno far parte del nuovo equilibrio e quindi sinceramente non mi aspetto è difficile a dire però potrebbe crescere meno la cosa interessante è che comunque questa crisi sta avvenendo in un momento di trasformazione strutturale non solo dell'economia ma soprattutto del sistema energetico e del sistema elettrico e anche perché appunto siamo in un contesto dove le rinnovabili già hanno avuto una forte penetrazione nel sistema elettrico e anche questo è un punto molto diverso dal precedente del 2008-2009 quando solare e eolica erano un punto di partenza ora per esempio l'anno scorso il 75% della nuova capacità installata era fonti rinnovabili e anche qui siamo andati a vedere i dati giornalieri di produzione di elettricità in questo periodo di crisi e è interessante vedere che l'unico vettore energetico che in questa fase è in aumento è il solare perché sono energie fonti che una volta nel sistema il costo marginale è zero quindi perché produrre energia dal sole una volta che gli impianti sono installati non è un costo aggiuntivo e quindi e questo ha portato anche a dei benefici economici perché abbiamo visto anche una riduzione dei prezzi dell'elettricità grazie a questo cambiamento di mix energetico quindi dei benefici diretti e immediati sia in termini di riduzione dei prezzi e in termini anche di ulteriore riduzione delle emissioni quindi due fattori che hanno contribuito il fattore di scala di riduzione della domanda del volume dell'economia e il fattore più tecnologico di cambiamento del mix energetico che ha contribuito quindi anche se si ripartirà con la domanda di elettricità tornerà a crescere e la speranza che questa crisi sia anche un po' un'opportunità per accelerare la trasformazione che è già in corso ecco e quindi da qui qualche implicazione anche per il futuro in termini di emissioni di gas ad effetto serra la possibilità stessa di rimanere dentro gli accordi di Parigi visto il stop come la vedi in questa direzione quindi andando oltre l'immediato dopo ma appunto in futuro un po' più a medio o lungo termine qui si tratta di di vedere se la riduzione di emissioni che stiamo vedendo in questo periodo che probabilmente vedremo per il 2020 sarà una riduzione temporanea oppure una riduzione che diventerà in qualche modo permanente dobbiamo vedere se effettivamente il 2020 sarà l'anno di picco delle emissioni che rimarranno in trend decrescente nei prossimi anni oppure no perché appunto la riduzione che vediamo in questo momento una riduzione in un anno nel contesto dei cambiamenti climatici è poco rilevante dove appunto si guardano le emissioni accumulate nel tempo dove per raggiungere per riuscire a limitare la temperatura parliamo di riduzioni del 7% l'anno adesso le stime che circolano in questo momento parlo di 5-6% nel 2020 quindi ci stiamo allineando con il tipo di riduzione che è necessario ovviamente il tipo di transizione di riduzione che vogliamo vedere nei prossimi anni non è una riduzione che viene dal collasso dell'economia ma è una riduzione che viene da una trasformazione strutturale quindi da un disaccoppiamento tra la crescita economica e appunto le emissioni disaccoppiamento che è già in corso perché in Europa per esempio già dal 90 per esempio dal 90 il GDP in Europa è cresciuto del 60% e le emissioni si sono ridotte del 23% quindi il disaccoppiamento che è già in corso dobbiamo accelerarlo renderlo più veloce questo sarebbe uno degli effetti positivi insomma diciamo della situazione allora mi permetto di su questi spunti anche sull'aver citato gli accordi di Parigi anche sulle valutazioni in merito alla negoziazione e cooperazione a passare all'intervento di di Marinella e che intanto saluto Marinella e la prima domanda è proprio legata a quali conseguenze insomma ci possiamo aspettare per quanto riguarda i negoziati delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e più in generale le negoziazioni Sì grazie mille come per altri eventi organizzati a livello internazionale la situazione sta avendo una ripercussione anche sui negoziati internazionali sui cambiamenti climatici in realtà per ora la conseguenza più immediata c'è stata da un punto di vista pratico ed è stata quella di rinviare le sessioni negoziali che erano previste nel 2020 e tutti gli eventi che sono normalmente collegati all'interno della convenzione quadro sui cambiamenti climatici normalmente si tengono due incontri annuali il primo a Bonn a giugno dove i delegati nazionali lavorano sugli aspetti più tecnici e preparano i documenti da discutere poi invece nella grande conferenza delle parti che è quella che si tiene normalmente tra novembre e dicembre e dove intervengono spesso anche i capi di stato e i leader politici per cercare di trovare un accordo finale e quindi finalizzare il lavoro la conferenza di quest'anno la COP26 era prevista a novembre a Glasgow in Scozia anticipata da un meeting preparatorio da una conferenza dei giovani a Milano quindi gli organizzatori della conferenza sono il Regno Unito che ne detiene la presidenza in collaborazione però con anche il governo italiano adesso novembre in realtà non è non è così vicino quindi gli organizzatori hanno ritenuto che tuttavia gli organizzatori hanno ritenuto che far viaggiare e riunire per due settimane un numero di persone che di solito si attesta sulle diverse decine di migliaia tra delegati osservatori e attivisti provenienti da tutto il mondo potesse contribuire ad alimentare una seconda ondata di diffusione del virus senza contare i problemi legati alla logistica visto che la sede la struttura dove era previsto che si tenessero negoziati al momento è utilizzata come ospedale da campo per far fronte all'emergenza così come è successo anche a molti altri centri conferenze rispetto ai tempi sappiamo che la sessione di giugno è stata rinviata a inizio ottobre mentre la COP26 si terrà molto probabilmente nella prima metà del 2021 molto probabilmente a maggio 2021 si era in realtà valutato anche l'opzione di fare un meeting virtuale in remoto come ad esempio succederà per il G7 ma la struttura la natura dei negoziati in realtà e quindi anche la fluidità degli argomenti e del tipo di accordo che i paesi devono trovare non ha non ha permesso di optare per questa per questa opzione sì beh immagino che i negoziati sia difficile e che da capire quanto questo possa tra virgolette aiutare andare poi in una certa direzione o disincentivare rispetto a questa quali sono attualmente quindi i temi in discussione nell'ambito di questi negoziati e appunto come peserà come influenzerà il rinvio il compito il compito principale della conferenza di Glasgow è quella di chiudere le ultime questioni riguardanti l'attuazione dell'accordo di Parigi che sono rimaste in sospeso due anni fa alla conferenza di Katowice in Polonia è stato approvato il cosiddetto rule book ovvero il libro delle regole che appunto delinea in maggiore dettaglio il funzionamento dei vari elementi dell'accordo di Parigi il tema principale da definire alla COP26 è quello che riguarda l'articolo 6 ovvero gli approcci cooperativi gli approcci cooperativi sono degli strumenti basati su meccanismi di mercato e di cooperazione attraverso i quali gli stati possono collaborare in maniera del tutto volontaria all'attuazione degli impegni degli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi l'obiettivo di questi meccanismi è quello di da un lato andare ad aumentare l'ambizione dell'azione climatica quindi andare ad effettuare magari delle riduzioni delle emissioni più ambiziose e allo stesso tempo andare a ridurre i costi quindi andare ad agire dove costa costa meno tra questi c'è anche il commercio di quote di emissione questi meccanismi in realtà sono molto controversi nel senso che possono andare ad aumentare come detto l'ambizione dell'accordo di Parigi se realizzati bene altrimenti possono offrire delle scorciatoie e andare ad anacquare tra virgolette gli obiettivi per questo motivo è necessario avere delle regole che siano ampiamente condivise ma che vadano a garantire l'integrità ambientale e la trasparenza dell'intero sistema un accordo su questo tema era previsto l'anno scorso ma le posizioni dei paesi erano molto diverse ed hanno impedito di adottare un testo quindi quest'anno si riprenderà da lì si dovrà definire questo pacchetto di approcci cooperativi un altro elemento importante quest'anno è il rinnovo dei contributi determinati a livello nazionale i cosiddetti NDCs l'accordo di Parigi prevede che nel 2020 i governi presentino di nuovo le azioni che intendono mettere in campo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo stesso si tratta in qualche modo in realtà quasi di una formalità visto che il primo round di NDCs cioè delle azioni che gli stati intendono mettere in campo da qui al 2030 è già stato svelato e non è ufficialmente richiesto ai paesi di presentare delle misure più ambiziose questo perlomeno non per ora questo verrà richiesto loro da partire dal 2025 quando ogni piano dovrà essere più ambizioso di quello presentato cinque anni prima la preoccupazione principale tuttavia è che le priorità dei governi che al momento sono giustamente concentrate sulla lotta al virus e sulla ripresa economica facciano passare in secondo piano le azioni sui cambiamenti climatici che restano ugualmente urgenti e che secondo la maggior parte cioè secondo tutte le valutazioni che sono state effettuate sono insufficienti per rimanere nella traiettoria di emissioni consistente con un aumento delle temperature tra un grado e mezzo e due c'è anche il rischio che i paesi che avevano annunciato di voler incrementare i propri sforzi di lotta i cambiamenti climatici mettano da parte queste ambizioni vista anche la riduzione che c'è stata la riduzione dello slancio dei movimenti dal basso come ad esempio i Fridays for the Future che invece avevano tenuto alta l'attenzione sui negoziati e sull'avere un buon risultato da parte appunto della comunità dall'altro lato ci sono in realtà delle questioni che non sono direttamente collegate ai negoziati ma che potrebbero influenzare il dibattito nel 2021 non necessariamente in maniera negativa la prima è legata alle elezioni presidenziali statunitensi la COP26 in realtà cadeva in una strana congiuntura temporale doveva iniziare il 9 novembre il 3 novembre ci saranno le elezioni presidenziali degli Stati Uniti il 4 novembre è la data in cui effettivamente gli Stati Uniti escono dall'accordo di Parigi quindi in qualche modo rimandare la COP26 al 2021 può tenere i negoziati a riparo dal rumore dal caos politico e mediatico generato da questi eventi e volendo anche considerare tutte le opzioni tutti i potenziali risultati potrebbero addirittura svolgersi sotto una guida statunitense diversa e che magari è un approccio diverso rispetto al tema dei cambiamenti climatici anche in Europa succederà qualcosa in realtà nel 2021 sia la Gran Bretagna che l'Italia hanno dei ruoli guida in ambito di G7 e G20 questi possono essere in realtà l'opportunità per questi paesi per spingere sui temi dei cambiamenti climatici e avere quindi e assicurarsi magari un buon risultato alla conferenza in ultimo c'è la questione del supporto scientifico all'azione climatica la pubblicazione del sesto report di valutazione del Comitato Intergovernativo per i cambiamenti climatici l'IPCC è prevista a partire d'aprile 2021 ci sono tre report principali uno sulla scienza uno sull'impatto uno sulle politiche che verranno pubblicati a partire quindi da aprile 2021 i negoziati del prossimo anno in realtà anche quelli immediatamente successivi potranno quindi svolgersi alla luce di un'evidenza scientifica più aggiornata che tenga conto quindi anche di un contesto di azione mutato rispetto a quello che era lo scenario di qualche mese fa l'IPCC in realtà sta andando avanti in maniera appunto telematica sta postando avanti i suoi incontri in maniera telematica quindi ci si aspetta che appunto queste date vengano rispettate comunque queste ci siano e per chiudere più in generale cosa può imparare la comunità internazionale da questa da questa crisi perché dobbiamo vederci comunque un qualcosa di positivo in fondo questa questa crisi in realtà ci ha mostrato che il sistema l'attuale sistema socio-economico è completamente interconnesso e quindi è difficile far fronte ad una situazione di pura emergenza sanitaria senza provocare impatti negli altri settori dell'economia secondo me questo appunto ha molto in comune con i cambiamenti climatici gli impatti dei cambiamenti climatici coinvolgono un'ampia lista di settori incluso quello sanitario e quello economico in più i cambiamenti climatici in realtà sono stati definiti come un moltiplicatore di minacce cioè vanno ad interagire con le vulnerabilità già presenti all'interno della nostra società abbiamo visto alcuni esempi anche adesso in realtà magari offuscati appunto dall'attenzione principalmente verso l'emergenza sanitaria ma all'inizio di aprile un ciclone si è abbattuto sulle isole Fiji e su altre isole del Pacifico mettendo completamente fuori uso la fornitura di energia e anche andando a danneggiare le infrastrutture in un paese che era già alle prese con appunto l'emergenza dell'emergenza del virus e quindi andando ad aggiungere ad una crisi anche degli altri elementi negativi oppure ad esempio anche qui negli Stati Uniti New Orleans è una delle zone sotto pressione dal punto di vista sanitario visto il livello del fiume Mississippi alzarsi vertiginosamente in una settimana a causa delle piogge intense per questo motivo secondo me bisogna cogliere l'opportunità di agire in un'ottica l'opportunità e quindi agire in un'ottica di lungo termine e sfruttare le sinergie tra le politiche che necessariamente saranno messe in campo per la ripresa dell'economia e quelle che invece sono urgenti per la mitigazione e l'adattamento in questo modo si potrà mettere in piedi una società che è veramente resiliente e che è in grado di proteggere quelle categorie più vulnerabili in questa e in altre future sfide la peculiarità delle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici tuttavia è che l'azione dei singoli governi non basta in questa crisi abbiamo visto ogni governo mettere in campo delle azioni decidere delle azioni che magari erano anche diverse da quelle che un approccio diverso da quello che gli altri paesi adottavano la riduzione drastica delle emissioni richiede necessariamente un'azione cooperativa coordinata da parte da parte degli stati la buona notizia appunto per concludere in maniera positiva è che se si agisce ora non ci sarà bisogno di misure politiche così aggressive e invasive come quelle che abbiamo visto negli ultimi negli ultimi mesi certo e già questo sarebbe da augurarselo se fosse se fosse possibile grazie Marinella passerei quindi a Carlo che libero nel senso che sblocco il microfono allora ciao Carlo e allora abbiamo parlato di in questa oggi di dell'impatto dell'emergenza sanitaria quindi di Covid-19 delle implicazioni sui consumi energetici di emissioni di CO2 anche perché si sono viste immagini di un certo impatto anche su questo fronte oltre che le relazioni con l'economia molto meno di quelle più strettamente ambientali cosa ci puoi aggiungere sul fronte appunto dell'impatto strettamente ambientale ma innanzitutto penso che le due colleghe che mi hanno preceduto abbiano già di fatto dato moltissimi spunti per affrontare la questione ambientale due o tre elementi vanno citati e messi in evidenza da subito cioè in primis che di fatto questa Covid questa sindrome da coronavirus è di per sé la manifestazione di una complessa interazione fra uomo e ambiente come magari cercherò di spiegare fra un attimo quindi l'elemento ambientale è fondamentale e chiaramente si può leggere in due direzioni come sempre cioè come l'ambiente di fatto condiziona interagisce determina questa pandemia e come quindi questa pandemia possa in funzione della diversità dell'ambiente anche evolversi in maniera diversa in giro per il mondo e poi anche come e questo è quello che abbiamo già in parte visto fino adesso come la pandemia di fatto abbia una cascata di effetti tra i quali ci sono degli effetti anche ambientali quindi il primo punto è proprio questo cioè andando a cercare di spiegare questa storia anche escludendo le ipotesi che stanno tornando in auge in questi ultimi giorni del fatto che questo virus venga da qualche laboratorio dove è scappato in qualche modo in ogni caso l'ipotesi di base degli scienziati è quella che questa è una zoonosi cioè che è un virus che si è trasmesso da animali dove questo stava lì magari chissà da quanto tempo in maniera accidentale all'uomo a causa chiaramente di una gestione inappropriata delle relazioni fra uomo e ambiente da dove in questo caso le relazioni sono fra uomo e animali quindi quello che è interessante che è un po' l'approccio che cerchiamo di adottare sempre è che dobbiamo in pratica parlare di quello che chiamiamo socio-ecosistema cioè un sistema che ha una componente ambientale una componente antropica e queste sono fortemente interconnesse qualsiasi cosa tu alteri o qualsiasi cosa cambi in una delle componenti sia naturale sia antropica immediatamente in qualche modo a cascata avrà un'infaluenza più o meno grande sulle altre quindi venendo magari così per non per non dilungarsi troppo su qualche esempio di questo ruolo dell'ambiente sul coronavirus e poi magari parleremo se c'è tempo dopo dell'altro anche qui potrei fare tre esempi mi sembrano interessanti beh in questi giorni è un fiume di articoli no? da qualsiasi parte che si leggono interessante per esempio proprio per in poche parole in italiano uscito recentemente da Marino Gatto di Politecnico di Milano ieri o l'altro ieri questo articolo lui parla proprio di continuum ecologico cioè un continuum che ha messo in relazione tutti questi elementi e ha scatenato una reazione di fatto assolutamente inaspettata inusuale e catastrofica e dentro però tu ci puoi mettere tutta una serie di elementi che hanno determinato quello che è successo per esempio la globalizzazione dei trasporti che citerò anche fra un attimo col secondo esempio e la globalizzazione dei trasporti è alla base di questo di questo fenomeno ma poi potresti andare a vedere n di queste cose cioè la gestione della biodiversità e ovviamente i cambiamenti climatici che hanno chiaramente un ruolo molto molto importante interessante che proveremo anche quello a approfondire quindi questo continuo ecologico in primis la seconda cosa ci sono ormai parecchi studi che sono già stati pubblicati sulla relazione che esiste fra coronavirus e clima in termini più meteorologici cioè proprio quello che c'è in questo momento e di fatto insomma più di un autore mette in relazione una particolare virulenza di questo virus in situazioni di clima fresco e asciutto relativamente freddo e asciutto pensiamo al clima che abbiamo avuto in questi giorni io non ho mai visto sul mio egrometro nel mio egrometro qua a Venezia di seda meno del 40% di umidità siamo durante una siccità che probabilmente adesso tanto non per per fare sempre cose tragiche sarà può darsi una delle prossime emergenze che dovrà gestire entro l'estate questo governo perché l'ultima precipitazione l'ultima sistema di precipitazione importante è stato a dicembre nel nord Italia quindi anche qui un'interazione si è visto che in paesi appunto che hanno temperature medie superiori ai 18 gradi i casi sono stati molto molto inferiori questo magari ci lascia anche un po' ben sperare ma un'altra cosa che ho trovato molto interessante su 7 sul magazine del Corriere c'era Sandro Orlando da Bocconi che parlava della storia delle epidemie e anche lì metteva in relazione periodi di forte anomalia e instabilità climatica per esempio con la peste del 1300 oltre 1350 cioè la peste del Boccaccio per intendersi e stessa cosa con quella del Manzoni cioè quella del 1629 30 che poi si è diffusa ecco globalizzazione dei trasporti vuol dire che quello che magari nel 1600 ha richiesto 30 anni per colpire tutta l'Europa qui di fatto in 30 giorni ha infestato tutto il mondo insomma ecco quindi anche qui queste relazioni ma di fatto i meccanismi sono sempre gli stessi cioè anche col colera del 1800 circa metà dell'800 è iniziato con delle grosse alluvioni in India la popolazione è scappata è scappata utilizzando il treno ha cominciato a diffondersi nel giro di 18 anni e è arrivato in Italia dall'India quindi di fatto i meccanismi sono sempre gli stessi e c'è sempre queste due componenti no? antropica e quelle naturale che si mescolano ultima cosa che è sicuramente interessante è quella della correlazione invece che più di un autore ha citato fra l'inquinamento atmosferico e il covid inteso proprio in termini di mortalità degli autori americani addirittura hanno studiato a livello di contè americane e hanno anche generato un numero con un microgrammo in più di polveri sottili l'epidemia 2,5 hanno osservato che statisticamente si osserva una mortalità che può aumentare il 15% sono tutti esempi quindi diciamo che ci danno l'idea di questa strettissima relazione fra covid e ambiente sempre avendo l'uomo come mediatore e quindi anche con i rischi rispetto a per quanto riguarda assolutamente sì insomma pensiamo per esempio al discorso dell'acqua in Africa cioè se non hai l'acqua per lavarti le mani come fai gestire l'emergenza esatto giusto giusto per fare un esempio dal punto di vista quindi come dire un tema sicuramente interessante è quello tra gli effetti del covid sull'ambiente c'è oltre all'uomo c'è anche come l'uomo si sostenta quindi c'è l'economia come possibile intermediaria su questo fronte quindi siamo partiti dicendo non parliamo strettamente di economia però poi ci dobbiamo tornare per cui cosa possiamo dire a questo proposito soprattutto in un'ottica di post-emergenza sì beh qui allora veniamo all'altro lato della cosa cioè le relazioni covid versus ambiente e qui ovviamente come dicevi giustamente abbiamo l'economia che diventa in particolare il mediatore di queste cose allora di primo a Chito e anche in base agli spunti delle due colleghe che mi hanno preceduto vengono in mente tutta una serie di effetti teoricamente positivi cioè una riduzione chiaramente di attività antropiche impattanti ha come logica conseguenza una diminuzione di questi impatti insomma quindi in questo senso il la prima cosa che viene in mente ecco però come giustamente accennava anche Enrica prima se noi andiamo a vedere storicamente quello che è successo e guardiamo nel trend di lungo periodo le emissioni vediamo dei piccoli scalini di fatto perché possiamo vedere anche fin dalla crisi della prima crisi petrolifera degli anni 70 del secolo scorso insomma cioè tu vedi che di fatto una crisi corrisponde chiaramente a una riduzione di attività economiche a parità di intensità di generazione di inquinamento è ovvio che hai un abbassamento però poi è un effetto rebound insomma quindi poi purtroppo si ritorna Enrica accennava al discorso del disaccoppiamento che è una cosa sulla quale vorrei tornarci anch'io perché è fondamentale qui dipende da dove guardiamo cioè se noi guardiamo all'Europa sicuramente osserviamo questo sempre crescente disaccoppiamento però purtroppo non è una cosa che accade allo stesso modo in tutto il mondo e quando tu guardi le tendenze a livello globale questo effetto anche di questi grossi miglioramenti che abbiamo avuto in Europa li vedi diciamo decisamente un po' minuto comunque in linea di massima quello che ci aspettiamo anche da questa crisi chiaramente con una magnitudine probabilmente molto superiore a quella anche del 2009 eccetera eccetera sono cadute riproduzioni interruzioni delle catene di fornitura quindi è chiaro che in prima battuta ci aspettiamo questo effetto di caduta dei consumi di energia delle emissioni però anche qui è interessante andare a vedere i dettagli delle cose cioè per esempio sono stati osservati un grosso abbassamento sia in Cina prima sia in Italia dell'inquinamento da biossido di azoto biossido di azoto è il classico indicatore di inquinamento che si origina nel traffico no? traffico urbano traffico comunque se tu quindi analizzi queste mappe con i sensori satellitari che sono in grado di fare questa analisi vedi che effettivamente però se poi vai a vedere un altro indicatore nello stesso periodo quindi febbraio marzo aprile in Italia o prima in Cina vedi che per esempio le polveri sottili di fatto non sono cambiate così drammaticamente insomma anzi quindi anche qui dobbiamo cercare di capire poi quali sono gli effetti attascati cioè se parliamo effettivamente una grossa riduzione dei trasporti parliamo di circa un quarto delle emissioni complessive e di questo per esempio un 13% dovuto all'aviazione quindi andiamo a vedere che questi effetti poi che immaginiamo e che ci vengono in mente subito positivi hanno sempre anche loro un impatto che poi non è così drammatico purtroppo altri effetti sono anche negativi voglio dire ci vengono in mente la gestione del coronavirus ha determinato di fatto un'esplosione della domanda di plastica per tutte le varie attrezzature protettive di fatto quindi se non ricordo male per esempio nell'area di Wuhan la generazione di rifiuti ospedalieri è aumentata di sei volte durante la gestione della crisi quindi ovviamente tutta una serie di problematiche ambientali importanti nella gestione di rifiuti e anche semplicemente il fatto della plastica insomma c'è un boom nella domanda di plastica per tutta una serie di prodotti che dobbiamo purtroppo usare quindi non so se vuoi andrei a dire due parole adesso magari su appunto come muovere da questa da questa analisi a quello che si può pensare di fare una prospettiva brevemente in modo che poi apriamo anche il tavolo ecco allora semplicemente in termini di spunti c'era un altro articolo interessante di Febbi Conduri che metteva in evidenza tre cose che sono interessanti cioè in questa crisi abbiamo visto che sia i governi sia le persone sono in grado di gestire degli shock in maniera veramente estremamente pesante cioè le misure messe in campo da diversi governi e come noi abbiamo reagito era abbastanza poco credibile prima che lo vedessimo no? e questo ci dà per esempio una certa prospettiva poi altrettanto ha dimostrato a tutti come i tempi di attuazione delle misure siano l'elemento fondamentale no? cioè se sei in ritardo perdi il controllo della cosa altra cosa interessante è che di fatto la crisi è stata gestita a livello di Stato nazionale non a livello di organizzazioni internazionali la Organizzazione Mondiale di Sanità ha avuto un ruolo marginale molto discusso questo per chi si occupa un po' di cambiamenti climatici è molto interessante insomma perché rafforza ancora di più questo parallelismo fra la gestione del Covid e la gestione del problema dei cambiamenti climatici su delle scale temporali che sono completamente diverse qui abbiamo dovuto gestire di giorno in giorno riparghiamo degli anni eccetera quindi una domanda fondamentale è quella che ci poniamo è ma se abbiamo fatto tutto questo per il Covid perché non lo facciamo per il clima ovviamente ci sarebbe serve tempo insomma per entrare nel dettaglio però una cosa fondamentale da ricordarsi è che in termini anche di impatto sulla salute sulle vite sulle nostre vite l'inquinamento e i cambiamenti climatici sono ancora molto molto più pesanti perché la stima delle morti premature in Italia per l'inquinamento da polveri sottili è dell'ordine di 80 per l'inquinamento 80.000 all'anno e di cui per le polveri sottili circa 60.000 quindi se noi fossimo effettivamente delle persone razionali in questo momento vedremo l'emergenza sanitaria anche su quel fronte quindi diciamo per chiudere alcuni elementi sono interessanti in primis sicuramente possiamo puntare sul consolidamento di alcune buone abitudini cioè lo smart working le nostre missioni di lavoro eccetera ci siamo dimostrati che molte di queste non servivano si poteva farne a meno che si può lavorare da casa eccetera eccetera il disaccoppiamento chiaramente come regola fondamentale e l'ambizione di avere un approccio multi solving qualcuno lo chiama multi obiettivo tanto per usare degli slogan bisogna cercare di muoversi da whatever it takes a do the right thing cioè fai la cosa giusta finalmente e qui ci sono mille cose che si possono citare stiamo un po' sporando qui magari ne cito due per esempio dal punto di vista delle misure economiche è chiaro che tutta una serie di misure hanno di fatto un'utilità sociale cioè vengono fatti per motivi sociali cioè la cassa integrazione tutte queste cose qui non possiamo andare in queste misure troppo per il sottile dobbiamo aiutare le persone ad arrivare a fine mese ma per tutte le misure che sono di reale supporto alla ripresa economica lì sì che dovremmo andare per il sottile lì dovremmo essere assolutamente selettivi cioè imporre una condizionalità ambientale seria cioè ti do un sacco di soldi però posso permettermi di chiederti di adottare dei criteri di condizionalità verde altrimenti semplicemente i soldi non li vedi in tutti quei casi in cui di fatto le opzioni ci sono quindi non c'è motivo per cui non cogliere l'opportunità offerta dalla crisi per cui diciamo fermerei ecco in questa fase poi ho visto ci sono già delle domande in questo senso quindi poi magari nel secondo giro le riprendiamo io quindi darei il grazie Carlo darei il benvenuto a Stefano che appunto ho sbloccato come quindi ho reso attivo il suo microfono quindi ciao Stefano e nel caso tuo vorremmo come dire allargare l'ambito di valutazione e di impatto passando anche alla parte più in fatto più finanziario e poi come questo si collega a possibili spunti di rilancio verde un pochino anche in linea con quanto ora Carlo ha detto quindi quali differenze somiglianze innanzitutto tra uno shock economico e finanziario causato dal covid che vediamo oggi cioè che sperimentiamo oggi e futuri possibili shock dovuti a cambiamento climatico e transizione energetica che quindi in parte già citati ma che all'orizzonte potrebbero non mancare Benissimo intanto buongiorno a tutti sono molto contento che già gli altri oratori hanno messo sul tavolo un numero di considerazioni molto importanti quindi mi fa piacere contribuire allora veniamo subito cerco di stare anche nei tempi che ho visto che tranquillo tranquillo Stefano abbiamo subito intanto due premesse penso che dobbiamo renderci conto il covid è un evento recente ancora in corso purtroppo per cui chiaramente è molto difficile fare dare già delle risposte ponderate tuttavia è il momento giusto per porsi capire quali sono identificare quali sono le domande che dobbiamo porci sia come ricercatori sia come società e a parte la dimensione ovviamente drammatica sia in termini umani che in termini economici io penso che soffermarci un attimo cogliere l'occasione sul fatto che il covid ci confronta con la necessità di riconsiderare alcune visioni convinzioni che tutti o molti di noi davano per scontate e in particolare questo mi 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 porta a fare una serie di considerazioni un po' riprendendo quello che era stato prima anche detto da Carlo cioè la prima ci rendiamo nel momento in cui la sicurezza dei cittadini sicurezza immediata è in gioco improvvisamente quello che abbiamo visto è che i governi sono diventano disponibili a imporre tutta una serie di prendere tutta una serie di decisioni abbastanza drastiche che mai e poi mai in altre situazioni ci saremmo aspettati e le imprese sono diventano anche disponibili a venire a termini con questo da un lato quindi c'è il lato policy poi c'è il lato invece del comportamento individuale e abbiamo visto come ci è voluto un paio di settimane però poi alla fine confrontati con degli argomenti chiari e il rischio concreto di un problema per la salute i cittadini hanno in massa infatti piccole deviazioni ma in massa hanno preso dei comportamenti che anche lì è un cambiamento epocale e massiccio di comportamenti che altrimenti avremmo pensato completamente impensabile ora una differenza cruciale tra il covid e il cambiamento climatico ovviamente come diceva Carlo è la scala temporale cioè il covid da quando arriva sono una questione di immediata un problema di salute immediato per noi o per i per i familiari mentre nel caso del cambiamento climatico è un problema di percezione ma le azioni che che perseguiamo oggi in termini di consumi in termini di decisioni dei governi e delle imprese poi hanno gli impatti si vedono su una scala di 10-20 anni però di fatto si tratta quello che è molto simile è che posticipare l'azione sulla base dell'informazione scientifica che abbiamo perché è successo la stessa cosa con il covid e le informazioni scientifiche erano chiare quei paesi o quelle comunità che hanno posticipato le decisioni poi hanno pagato le conseguenze ma era tutto chiaro dall'inizio quindi è una questione se si arriva al coordinamento dell'azione in tempo le conseguenze sono gestite medio ora quindi questo parallelismo tra parallelismo e differenze in particolare volevo rivenire sul discorso degli stimoli verdi all'economia che nel per esempio un anello dell'analogia durante la crisi del 2008 quello che è successo nel tentativo di vari stimoli per far ripartire l'economia su vari contesti geografici c'è stato anche quello di includere dei pacchetti verdi diciamo così ma sostanzialmente dei pacchetti di stimolo a vuoi le energie rinnovabili o altre policy di questo tipo allineate con gli obiettivi climatici come parte del programma di rilancio ora guardando un po' la letteratura exposto diciamo a posteriori quello che si vede insomma l'evidenza sembra un po' mista cioè da un lato sì è vero dei pacchetti verdi sono stati introdotti in una serie di queste misure però se poi guardiamo i numeri sono generalmente abbastanza piccole da un lato e dall'altro di fatto l'obiettivo di recuperare la traiettoria di crescita pre-crisi in molti paesi in particolare quelli dei paesi emergenti di fatto ha causato un ritardo nella discussione sugli obiettivi di riduzione delle emissioni mi ricorrego anche a quello che è stato detto dall'altra collega precedentemente sulle negoziazioni internazionali c'è un'altra tra le varie visioni approcci che il covid ci ci costringe ci confronta con la necessità di riconsiderare direi e si connette all'idea del disaccoppiamento i colleghi l'hanno chiamato così disaccoppiamento nella letteratura io vorrei chiamarlo la visione dell'economia dematerializzata cioè abbiamo un po' coltivato l'illusione che un'economia basata su servizi alle persone alle imprese in particolare servizi finanziari siano in qualche modo un po' magicamente slegati dal luogo e dalle modalità di creazione del valore lungo la catena del valore stesso e quello che ci siamo di cui ci siamo resi conto è che intanto l'economia globale e in particolare il sistema finanziario è esposto a rischi fisici in una misura molto maggiore di quella che eravamo disposti a credere precedentemente e se pensiamo tutte le crisi finanziarie precedenti e poi possiamo discutere degli effetti della seconda guerra mondiale ma che nel post guerra sono stati positivi non negativi ma diciamo dal secondo pop guerra in poi tutte le crisi internazionali o di singoli paesi sono nella maggior parte endogene cioè c'è un ciclo economico che dà luogo poi o nel caso più scolastico dell'ultima in cui internamente nel sistema finanziario si è creato un mispricing cioè uno scollamento tra i valori fondamentali e il valore di mercato che poi a un certo punto quando viene rivelato dà luogo a una crisi finanziaria in questo caso è completamente diverso abbiamo uno shock a dei settori di base come il turismo i trasporti e alcuni servizi la ristorazione eccetera che poi si ripercuote lungo la catena la catena di fornitura supply chain economica quindi poi anche il settore energia manifattura eccetera e poi il settore finanziario perché ovviamente le obbligazioni delle imprese che lavorano in questi settori sono in pancia alle istituzioni finanziarie sono nei bilanci delle istituzioni finanziarie sia banche commerciali che assicurazioni così come anche i prestiti delle PMI quindi delle piccole imprese che diventano sofferenti e quindi tutto questo poi si ripercuote sul sistema finanziario che poi a causa dell'interdipendenza all'interno del sistema finanziario viene amplificato e allora hai suggerimenti cioè di quali potrebbero essere gli approcci più di analisi scientifica appunto per capire gestire questi shock e soprattutto per la gestione dei rischi connessi che appunto altrimenti rischiano di essere dei loop non virtuosi ma viziosi del passaggio dalla componente finanziaria una volta innescata alla componente reale e viceversa esatto allora diciamo ci si rende conto che diventa molto difficile capire appieno poi anche misurare da un punto di scientifica le conseguenze di questi shock se non si tengono in conto le interdipendenze dei rischi la composizione dei rischi cioè da un lato ci sono rischi ambientali di cui ho parlato e la relazione nelle due direzioni con i rischi di pandemie di cui che ha spiegato e discusso molto bene Carlo e poi la relazione di questi con gli impatti climatici quindi tutte queste tre cose tra di loro già si possono rinforzare perché in un contesto di per esempio in un contesto di l'inquinamento ambientale più elevato ecco che la stessa lo stesso shock di pandemia poi si può avere un'evoluzione diversa così come la pandemia può avere un effetto diverso a seconda di quale sia stato l'impatto del cambiamento climatico su una regione quindi sono tutte cose che si non sempre però possono ci sono condizioni le quali si rinforzano e il fatto che si rinforzano cambia tutto cioè nel senso la magnitudine dello shock può essere completamente diversa questo che non diciamo nei nostri approcci come dire un po' lineari tendiamo a dire ah ho questi tre rischi quindi mi danno queste tre soggetti di rischio mi danno tre possibili perdite misurati in un qualche modo finanziario oppure no ma sono abbastanza indipendenti quello che avrò è una specie di composizione indipendente no perché se sono interdipendenti quello che ho è una cosa che non è è ben lungi da essere la somma delle tre perdite o come dire la somma in un contesto di shock indipendenti e lo strumento chiaramente per analizzare queste interdipendenze è uno strumento che si è sviluppato negli ultimi anni e si è imposto è la teoria delle reti in particolare la teoria delle reti finanziarie e come dicevo prima molto brevemente riassumo siccome il sistema finanziario può funzionare non soltanto come nella direzione di assorbire gli shock ma anche sotto certe condizioni di amplificare gli shock ecco che in particolare ci rendiamo conto che può amplificare in particolare quelli fisici e quindi la catena che abbiamo visto è lo shock della pandemia che va a colpire alcune attività la domanda in alcune attività economiche da quelle il valore delle azioni le obbligazioni delle imprese che lavorano in quei settori e poi da lì i bilanci delle banche ma poi dai bilanci delle banche poi si ripercuote indietro sulla disponibilità di credito delle imprese stesse e poi alla fine dal punto di vista quando diciamo è un feedback group generale nella situazione della capacità del paese stesso di di non avere il proprio credito quindi è per quello che poi certo su questo Stefano mi permetto di farti chiudere con un con un accenno beh no questa è un po' più dura da chiuderla in positivo devo dire però come dire molto spesso c'è un limite anche qui ce ne facciamo una colpa dal punto di vista anche come economisti come economisti finanziari sulla capacità sul modo di misurare il valore delle attività economiche in relazione alla resilienza questo tipo di questo tipo di shock che non sempre si riesce a portare dentro nelle diverse dimensioni nella complessità dell'interrelazione che hai giustamente descritto eh qui tocchi un punto difficile che diciamo per riassume per dare un po' l'idea quello che secondo me si è visto con nelle ultime nell'ultimo mese è una cosa curiosa interessante a me ha fatto molto riflettere cioè da un lato sono state individuate una serie di attività che sono state chiamate essenziali sono quelle che ci permettono di sopravvivere per un paio di mesi e poi se andiamo a vedere per la maggior parte di queste il contributo di queste attività economiche in termini di prodotto interno lordo cioè la loro composizione in termini gross value added ma è inuscola quindi questo ci deve far riflettere cioè tutta la nostra economia alla fine tutta la nostra sopravvivenza in qualche modo dipende da delle attività e parlo di quelle che sono a che fare con la produzione di di cibo così come i servizi sanitari il cui valore se misurato in termini di contributo al prodotto interno lordo è bassissimo e quindi dobbiamo porci una domanda non è che dobbiamo forse ripensare il the value of everything come dice qualcuno il valore in particolare finanziario di queste attività per concludere penso ci sia un'importante opportunità avendo realizzato che politiche comportamenti che sembravano impensabili diventano pensabili sotto certi vincoli e alcuni di questi potrebbero diventare persistenti come ha detto Carlo da alcuni colleghi precedenti per esempio una parte di viaggi di lavoro anche quelli di piacere onestamente non solo può essere ridotto senza danno ma anche a vantaggio della qualità della vita e legato a questo importantissimo il dibattito sulla ripartenza dell'economia è cruciale non mettere in contraposizione gli obiettivi climatici con gli obiettivi della ripartenza dell'economia perché perché ci rendiamo conto che quello che il Covid ha messo in evidenza è che una visione di breve termine che predilige attività economiche hanno un ritorno nel breve termine ma che nel lungo termine hanno conseguenze ambientali o climatiche negative poi alla fine si ripercuota contro noi e crea un contesto socio-economico che è più vulnerabile agli shock che verranno e sappiamo che questi shock verranno perché l'impatto del chiamamento climatico non sarà minore nel futuro sarà più grande e eventi come quello della pandemia probabilmente saranno più frequenti non meno frequenti grazie Stefano grazie per questo primo giro adesso mi permetterei di riprendere alcune delle domande che sono apparse in chat quindi partendo da Enrica non so Enrica se hai già avuto modo di vederle scorrere altrimenti te le riporto dimmi tu se vuoi rispondere direttamente o ti riporto le ma stavo dando un'occhiata sì vedevo che c'era allora al di là di qualcuno che chiedeva a quali sussidi e petrolio ti riferivi piuttosto cioè il calo verticale della domanda di petrolio di questi giorni in un qualche modo è un anticipo dei tempi che verranno nel senso dello spostamento delle generazioni di energia dal fossile ad altri mezzi rinnovabili se è vero in che misura ma qui è un po' difficile si vede l'andamento del prezzo del petrolio per tornare ai livelli di prima un'altra domanda riguarda il rischio che questa caduta di prezzo di petrolio che ha colpito tutti cioè te l'ho portata anch'io all'inizio perché è oggettivamente la notizia di ieri che ha lasciato più tutti colpiti c'è il rischio che questa caduta dei prezzi invece questo è l'altro prezzo della medaglia costituisce una minaccia per la transizione verso le energie rinnovabili perché appunto nel momento in cui una fonte energetica diventa meno costosa e diventa più facile utilizzarle quindi post crisi immaginabili che numerose imprese di sofferenza vedono nel prezzo del barile ai minimi storici un'opportunità per un rilancio dell'attività utilizzando quel tipo di energia e non altro sì sì allora in tempi normali in un contesto diciamo di normalità una riduzione dei prezzi del petrolio in qualche modo si traducono in riduzione dei prezzi per esempio della benzina o di prodotti petroliferi che quindi stimolano la domanda ora siamo in un contesto dove almeno per adesso la domanda è bloccata quindi questa risposta non può esserci guardando un po' più in là nel lungo periodo c'è la problematica che molti produttori potrebbero andare a qualche via in pancarotte e quindi nel momento in cui ci sarà la ripresa non essere più in grado di riprendere la produzione che a questi prezzi non è sostenibile e quindi sono due aspetti da una parte diciamo dal lato dell'offerta sicuramente è un'occasione per ripensare le strategie di investimento di lungo periodo e comunque è una cosa che stiamo vedendo da alcuni anni che gli investimenti si stanno spostando dai combustibili fossili agli rinnovabili quindi come dicevo prima è un cambiamento strutturale che è già in corso io credo che questa crisi dovrebbe anche mettere in evidenza che la sicurezza energetica è un'altra problematica un'altra questione quindi avere un sistema energetico basato su una fonte non ci permette di rispondere in modo ci crea delle difficoltà quando si manifestano dei shock come questi quindi un sistema più diversificato che si fonda anche su energie sviluppate in loco quindi rinnovabili può essere e è visto anche dagli investitori come una strategia più più sicura e poi c'è il lato della domanda che effettivamente prezzi bassi consumatori nel momento in cui potranno riprendere il consumo effettivamente sì questo sia per l'elettricità che per il petrolio e qui la politica gioca la politica gli strumenti di politica ambientali ambientali come quelli che sono in discussione nel Green Deal europeo hanno un ruolo importante un punto importante del Green Deal è proprio la revisione della tassazione energetica in modo da allineare i prezzi con il principio di chi inquina paga e cito solo il carbone che è il combustibile più inquinante perché è il contenuto di carbonio più elevato e è il combustibile meno tassato quindi qui sicuramente giocherà un ruolo importante il pacchetto europeo che si sta discutendo in questi giorni quindi rivedere gli incentivi che quindi modificano i comportamenti al margine gli aspetti distributivi quindi il fatto che alcuni settori effettivamente possono perdere molto anche questi vanno poi affrontati con altri strumenti che vanno per fronte alle problematiche più di equità ecco grazie grazie Enrica una domanda per Marinella prenderei l'ultima arrivata che mi sembra sì riguardo la possibilità di svogere una parte dei negoziati in modalità telematica ma soprattutto in ultimi tempi si è discusso molto sul fatto che la lotta dei cambiamenti climatici non posso aspettare ora però appuntamenti fondamentali come la COP26 sospiscono rislettamenti temporali importanti che forse da un lato possono essere anche positivi rispetto al quadro che prima delineavi però comunque che rischiano di dare far passare il messaggio che la lotta dei cambiamenti climatici è un impegno praticamente sempre posticipabile allora brevemente volevo rispondere in realtà alla domanda sulla partecipazione virtuale giusto perché in realtà è un argomento molto importante che non è e che non nasce adesso con la crisi con la crisi appunto del covid credo che in realtà non sia stata totalmente esclusa l'opzione sia esclusa la possibilità di averlo esclusivamente in maniera virtuale perché appunto anche per le delegazioni soprattutto pensando anche a quelle dei paesi via di sviluppo questo avrebbe minato anche la partecipazione in maniera equa delle varie delegazioni negli ultimi anni l'UNFCCC ha in realtà aperto alcune delle sessioni ad una partecipazione virtuale in streaming e la questione secondo me io sono d'accordo in realtà con Elisa la questione è molto importante e quindi probabilmente potrà essere l'opportunità come in altri settori quello appunto dello smart working di riuscire ad ampliare la partecipazione di prendere questa come l'occasione per ampliare la partecipazione alla conferenza per quello che riguarda invece la la domanda sì in realtà in realtà bisogna vedere cambiamenti climatici appunto in un'ottica integrata gli stati hanno diverse priorità alcuni hanno priorità ancora di sviluppo economico altri hanno hanno priorità più di tipo più di tipo appunto in altri in cui appunto l'azienda l'agenda ambientale non è l'agenda sui cambiamenti climatici non è non è non è una priorità quindi il rischio che che i cambiamenti climatici vengano visti come qualcosa che si può posticipare in generale è anche in questo caso non soltanto relativo al rinvio della conferenza ma come dicevano anche il professor Giupponi e il professor Battiston che vadano a finire in secondo piano rispetto ad altre priorità c'è sempre strato quello che appunto è opportuno fare è mantenere l'attenzione quindi anche il ruolo della comunità scientifica mantenere l'attenzione sui cambiamenti climatici in modo che appunto si vada a a non mettere in pratica politiche che abbiano degli effetti negativi grazie grazie Marinella una domanda per Carlo non so se mi permetterei di passarti questa ci sono delle reali basi per affermare che questa crisi possa costituire un'occasione di accelerazione verso l'auspicato grignodile europeo oppure caso opposto cioè sarà una un'occasione ancora più persa le basi teoriche sono evidenti e gli spunti penso che siano emersi un po' da tutti gli interventi di oggi insomma il fatto che l'opportunità ci sia a me quello che preoccupa è la tempistica in sostanza sappiamo che gli interventi che abbiamo a mettere in atto devono essere estremamente veloci e quindi anche quello che dicevo prima riguardo la condizionalità e c'erano state domande anche su questo è effettivamente una sfida importante quindi dobbiamo avere un grande pragmatismo e quindi mantenere le nostre ambizioni però per esempio voglio dire anche sul fatto dei finanziamenti e delle condizionalità verde abbiamo gli strumenti di tipo non so anche la tosonomia europea sul sustainable fund sulla finanza sostegno abbiamo gli strumenti ma dobbiamo riuscire a rendere queste cose operative ma io direi che proprio per volare un po' più basso ma quindi dobbiamo perlomeno come diceva Marinella cercare anche nel micro di stare alla larga da tutti gli effetti collaterali perversi da tutti gli effetti non intenzionali ma che di fatto ci possono portare in una situazione critica dire vabbè in questo momento rilassiamo le regole e accettiamo delle cose che non avremmo accettato in un altro momento chiedo scusa c'è qualcuno che sta condividendo il video non capisco vabbè passerei comunque a una domanda per Stefano che mi permetto di riportare scusatemi se Lorena Bertondo sì infatti sto vedendo ma si leggeva giusto ieri dei buchi di zoom infatti non vorrei che fosse qualcosa del vabbè eccolo qua forse ci siamo perfetto chiedo scusa ecco Stefano lascerei a te due parole per chiudere con anche con quella sollecitazione rispetto all'utilizzo anche di strumenti finanziari per un po' la ripresa Carlo per spingere verso se ci sono effettivi modi per rendere da una parte come dire il supporto che viene ricevuto dall'altra gli investimenti l'indirizzamento degli investimenti in condizioni di investimenti più sostenibili diciamo genericamente allora mi ricollego a quello che diceva prima anche Carlo dunque mi sembra che questo aspetto della condizionalità sia molto importante come dicevo prima è importante rendersi conto e questa è una riflessione che dobbiamo fare secondo me sia all'interno della professione degli economisti sia più in maniera più larga a livello della società non c'è necessariamente una contrapposizione tra gli obiettivi climatici e gli obiettivi della ripresa economica si tratta di fare le cose nel modo giusto non è che necessariamente la ripresa deve essere per forza attraverso una ripresa massiccia dei consumi di energia fossile e Carlo suggeriva un modo potrebbe essere questo appunto per esempio di legare gli aiuti alla condizionalità delle varie attività e giustamente menzionava la tassonomia della finanza sostenibile che è un passo molto importante che è stato fatto dalla Commissione Europea ho avuto il piacere l'onore di contribuire all'assessment finanziario della tassonomia stessa e offro una base di partenza molto importante per capire quali sono le attività secondo la lista delle classificazioni di Eurostat quali sono quelle che sono potenzialmente considerabili sostenibili nel senso almeno di contribuire in maniera positiva non negativa alla transizione energetica quindi poi diciamo ci sono il diavolo nei dettagli però l'importante è partire con il passo giusto la direzione giusta per prendersi conto che non c'è a priori questa contrapposizione e poi andare a scegliere e chiaramente lì poi siccome ovviamente vengono toccati interessi di diverse parti economiche della società e lì c'è una discussione poi di come questa suddivisione sia equa però la soluzione c'è ecco è un'importante partire da questa considerazione ed è importantissimo e ti ringrazio Stefano anche nell'essere espliciti rispetto al fatto che non ci sia questa contrapposizione cioè il sostenere le attività in questo momento può essere l'occasione buona e utile invece per arrivare a non imporre la condizionalità ma quantomeno spingerle nella direzione di scelte più sostenibili peraltro come Dipartimento di Economia come anche attività di ricerca su questo ci stiamo investendo anche personalmente ma anche Stefano ed altri colleghi anche per fornire delle soluzioni che portino da un lato a prendere correttamente in considerazione le dimensioni diciamo in termini molto ampi di sostenibilità nella valutazione stessa degli investimenti e più in generale dell'affidabilità finanziaria e dall'altro lato di trovare quelli che sono gli strumenti utili per poter permettere favorire l'investimento in ambito sostenibile e utilizzando il termine sostenibile è volutamente molto ampio perché appunto le dimensioni possono essere di vario genere io direi che con questo abbiamo concluso la nostra chiacchierata odierna nei tempi che ci eravamo previsti ringrazio moltissimo i colleghi ringrazio tutti i partecipanti prima di chiudere colgo l'occasione per ricordarvi i prossimi appuntamenti in particolare l'appuntamento della settimana prossima di martedì 28 è un appuntamento che è diventato particolare abbiamo ospite il professor Pasquale Tridico presidente dell'Inps che quindi torneremo ad affrontare l'impatto del covid sul sistema di sicurezza sociale e previdenziale la settimana successiva quindi andando a maggio avremo un primo incontro dedicato al turismo che dovrà essere la settimana prossima quindi l'impatto sul turismo che viene slittato al 5 di maggio e poi il 12 di maggio abbiamo già come dire un panel di un insieme di colleghi che affronteranno dall'atto l'impatto sia sul sociale sia in termini di diffusione del contagio che diffusione di fake news per non dire diffusione di problemi finanziari vedendoli da un punto di vista complessivo allora io ringrazio nuovamente tutti buona serata e alla settimana prossima grazie grazie